Alessandro Casella e Rosario Siragusano su Skoda Fabia Rally 2 e Totò Riolo e Rosario Terranova su Porsche Carrera di quarto raggruppamento. Questi gli equipaggi che si sono imposti rispettivamente nell'ottavo Tindari Rally e nel Tindari Rally storico. Casella e Siragusano hanno vinto tutte le otto prove speciali in programma. Avvincente il duello per la seconda posizione risolto a favore dei fratelli pattesi Nunzio e Roberto Longo su Skoda Fabia. Terza piazza per il rientrante egrigentino Giuseppe Patti che ha condiviso la Citroen C3 con l'esperto messinese Domenico Salvo. Il podio è stato allestito in piazza Cavour di Gioio Samarea alla presenza di Luca Costantino coordinatore CST Sport e dei sindaci di Gioio Samarea San Piero Patti e Patti, Giussi Lagalia, Cinzia Marchello e Gianluca Bonsignore. I vincitori, driver di Piraino e il copilota di Patti, già campioni italiani Rally Junior sulla Skoda Fabia curata da Lyon, hanno dominato il round di Coppa Italia Rally Ottava Zona con validità per il campionato siciliano, con il secondo successo per il pilota in entrambe le serie dopo quello del Rally Denebro di lo scorso giugno. Quarto posto per l'idolo di casa Carmelo Monica Franco navigato da Filippo Saia. Quinti in rimonta ai San Pietrini Giuseppe e Kevin Schepis, autori di un proficuo debutto su Skoda Fabia. Sesto ancora un equipaggio locale su una Peugeot 208 sovralimentata Antonino Segreto e Cristian Bartolini. Settima piazza per gli esperti messinesi Marcello Rizzo e Antonino Pittella su Peugeot 208 GT Line. Cavalcata triompale per Totò Riolo, navigato da Rosario Terranova nel Tindari Rally Storic con la Porsche 911 Carrera RS di quarto raggruppamento. La Soccerdese ha preceduto sul traguardo di Gioio Samarea Giovanni Modica e Ciccio Lafranca, vincitori del terzo raggruppamento con un'altra vettura di Stoccarda. Con un proficuo a solo, Angelo Cinque e Fabrizio Fici su BMW Ti, si sono aggiudicati il primo raggruppamento. La gara si è confermata spettacolare e selettiva, come dimostra l'alto numero di abbandoni, sebbene la competizione abbia avuto uno svolgimento fluido e sereno grazie al lavoro dello staff di direzione gara e di tutti gli ufficiali e commissari presenti sul percorso.